Ciao ragazze, volevo farvi vedere il mio impianto stereo ultrapotente, è qua allora, vediamo se la potenza di questo impianto stereo riesce a spegnere questo zippo mi rimetterò a metterla davanti alle casse, cioè qua oppure qua tanto qui è bloccato in fondo, qua invece lascia l'aria questa è un'altra cassa, scusate non si deve molto avere ma comunque c'è un'altra cassa ho preso qua perché questi sono gli acuti e dietro c'è l'uscita dell'aria, proviamolo come si chiama la canzone, non chiedete troppo perché lo dico adesso si chiama Minecraft Rollscoaster of Happiness and Death inizia così fa un po' pompa, aspettate un attimo se è tanto alto il volume è abbassato aspettate eh, ora è ancora arrivato il momento vedete come soffre c'è la fiamma occhio eh mettetevi qua che sono occhio, eccolo saltavo un attropello, i vinicini arrivavano ma è sicuro lo spegneva ho detto io sto che bomba che è questo intanto ha dei bassi assurdi e suona bene diciamo, veramente bello il suono ultra basso ragazzi questa è una cina straordinaria proviamo con una cina normale è stupido non lo sente perché la fiamma è troppo piccola e poi non la fiamma è troppo piccola per sentirlo non lo sente questo se è una fiamma grande mi piace bellissimo quando finisce solo questo pezzo spengo il video mi piace bellissimo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti bene ragazzi spero che il video gli sia piaciuto ciao a tutti